Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Quest'oggi continuiamo con la nostra lista di capodanni, con la nostra lista di calendari, ma prima ci tenevo proprio dal profondo del cuore ad augurarvi un buon anno. Questo podcast dovrebbe uscire proprio il primo gennaio, quindi è proprio una roba d'obbligo, oltre che un grande piacere per me augurarvi un felice 2020 e che possa questo podcast avervi beccato nel momento in cui siete già più contenti perché è iniziato il nuovo anno e non nel momento in cui siete più tristi perché vi siete resi conto, ah il 2020, ma hai voglia alla fatica per farlo diventare un bell'anno. Detto questo, continuiamo a parlarvi appunto di Feste di Luci e quest'oggi ci concentriamo sul Diwali, che de facto, lo dico fin da subito, non è tanto un vero e proprio capodanno nel senso nostro del termine, ovvero non è né all'inizio né alla fine dell'anno indiano, ma è sicuramente la festa che più si lega sotto tantissimi punti di vista al capodanno gregoriano, proprio perché entrambe sono considerate feste di luce e adesso andremo a vedere il perché. Innanzitutto vi dico anche che il Diwali, a differenza di tante altre feste che abbiamo visto e che vedremo, è una festa che sostanzialmente si lega a tutto il subcontinente indiano e questo lo dico già adesso perché oltre agli hindù, che quindi è ovvio, è una festa che comunque ha i suoi legami molto forti con la religione hindù, eccetera, è anche la festa dei Sikh ed è anche la festa dei buddhisti, è di un certo tipo di buddhisti, retta non di tutti, è la festa anche dei jainisti ed è la festa anche di alcune particolari etnie e popolazioni che comunque in questo subcontinente indiano vivono e di conseguenza si sentono rappresentati da questa festa. Ma perché tutti questi popoli? Cioè è una cosa strana comunque, no? Perché di solito ogni popolazione comunque al proprio interno, soprattutto se ha religioni, storie e costumi diversi, tende ad adottare una sua data, tende ad adottare un qualche evento suo. Beh, perché di uguali in realtà, come tutte queste feste, sì, poi anche, diciamo, è una data che si lega ad un evento particolare, mitologico o anche storico, adesso ci arriveremo e lo vedremo con attenzione, però come tutte queste feste, diciamo che è stato fatto cadere un po' in quella data lì, perché quella, ovvero circa fra fine ottobre e metà novembre, è il periodo nel quale i monsoni terminano la loro pioggia. I monsoni, per chi non lo sapesse, sono delle piogge fortissime che ogni anno piombono sull'India e sul subcontinente indiano e la loro fine, di fatto, fa sì, cioè, fa sì, è il primo passo affinché tutta la natura possa riprendere tutto quanto, diciamo, possa tornare alla vita, tutto ciò possa anche uscire dalle proprie case, perché io non sono mai stato in India, quindi non so la potenza poi effettiva di questi monsoni. Però, se sono delle piogge, come ho letto, che durano per un periodo sterminato di tempo, cioè stiamo parlando proprio di mesi in cui piove sempre, è chiaro che è anche complicato uscire, nel momento in cui tu finalmente riprendi, fra virgolette, la tua vita, è chiaro che si celebri anche una festa legata, tra l'altro, anche a un'abbondanza, perché se piove troppo naturalmente non coltivi, se non piove più e hai già tanta acqua puoi coltivare tranquillamente e molto bene. Detto ciò, però, la festa naturalmente ruota attorno anche a dei fatti, a dei personaggi, a qualcosa. Vi racconterò, diciamo, il motivo per cui è legata sia all'induismo e sia al mondo Sikh, lo chiamerò, perché non so se in italiano esiste il Sikhismo e poi mi fa schifo, quindi al mondo Sikh. Ah, intanto al mondo hindu è facile, fra virgolette, perché le origini sono non antiche di più. Proprio perché questo di Wali si collega in particolare alla figura di Rama. Rama è un personaggio importantissimo nell'ipica indiana ed è un personaggio del Ramayana, che, appunto, vuol dire la via di Rama, che è quest'opera antichissima scritta fra il... se non mi sbaglio nel secondo secolo a.C., e che narra di fatto le avventure di Rama, appunto, che è questo personaggio particolare perché, tra l'altro, sembra essere un avatar di Vishnu. Gli avatar sono... io non sono un esperto di hinduismo, quindi sicuramente ci sarà qualche errore. Però, diciamo, in sintesi, sono delle rappresentazioni delle divinità. È come fosse, non so, un posseduto, non so come dire, però da una divinità. E Rama, appunto, sembra che fosse un avatar di Vishnu, tanto che viene rappresentato il più delle volte in blu. Quindi, quest'avatar, che fa questo Rama? Rama è un principe che viene scacciato dalla propria terra insieme alla moglie e che si ritrova a vivere comunque in esilio, nascosto, eccetera. Poi accade un fatto particolare perché lui era sposato con Sita, che viene identificato da molti, addirittura come una dea, eccetera, però, vado a stare, era sposato con Sita. Ad un certo punto, però, arriva un demone che si chiama Ravana, che, tra l'altro, è divertente perché questo, qua nella descrizione, banalmente leggo il malvagio demone. Peccato che per il paolo del Sri Lanka, invece, è considerato una cosa positiva proprio perché li ha liberati. Vabbè, lasciamo stare. Arriva sto demone con dieci facce, dieci volti e tutto, rapisce Sita e la porta fino in Sri Lanka. Allora, a quel punto, Rama, per salvare la propria sposa, salvare il proprio onore, eccetera, si reca fino in Sri Lanka e a quel punto si mette a costruire addirittura un ponte che colleghi l'India al Sri Lanka in maniera tale da poter andare lì, sconfiggere Ravana e poter recuperare la propria moglie. Cosa particolare è che poi qui verrà aiutato da un personaggio che non vi dico il nome perché già vi sto dicendo troppi nomi. Purtroppo il mondo indiano ha la magna di dare 2000 nomi, eccetera, quindi non ne ammetterò di più. Fatto sta che è molto interessante che ad aiutarlo ci sarà una sorta di avatar spirito umanoide che però è il signore di questo popolo di scimmie che è molto interessante, molto particolare e penso che sia anche molto adatto perché effettivamente lì sicuramente ne vedono un sacco, quindi il fatto che l'abbiano associato anche alla divinità alla scimmie è perfettamente normale. Detto questo, il Diwali simboleggerebbe il ritorno in patria, quindi a Oyozia, che è la città di Rama, successivamente al quale lui sarà nominato signore della città e quindi recupererà il proprio onore e si darà via a tutta una serie infinita di feste, di festeggiamenti, eccetera. E questo, diciamo, è secondo gli induisti perché il Diwali, diciamo, cade proprio in quella data perché appunto l'associano a questo. I Sikh, invece, sempre, diciamo, festeggiano esattamente nella stessa festa, allo stesso giorno, eccetera. Però, per loro, si festeggia per un motivo diverso e questa volta, diciamo, è un po' più storico anche perché Rama, appunto, è una figura che è mitologica, è come dire Ulisse, per essere chiari. Cioè, potrebbe essere esistito Ulisse? È una bugia? No, certo, Ulisse potrebbe essere esistito. Naturalmente noi sappiamo che un ciclope, noi, nessuno l'ha mai visto, quindi, oh, magari c'era, magari no, chissà. Le sirene non le abbia mai viste, eccetera. Quindi, è un po' un mito. Certo, potrebbe essere esistita una figura che ha preso spunto da questa. Nel caso dei Sikh, invece, è proprio una figura storica perché nel 1619 il guru Hargobin Sahib Ji venne incarcerato dall'allora capo dei Mogul che era una popolazione musulmana e venne tenuto prigioniero per un po' anche, tra virgolette, con un tradimento anche se va detto che non fu un tradimento orchestrato dall'imperatore Mughal ma orchestrato di fatto dalla sua cerchia, dalla sua corte perché non vedeva assolutamente di buon occhio questo guru che si metteva a parlare in giro che proponeva teorie strane, eccetera. Mentre l'imperatore, che all'epoca si chiamava Jahangir tutto sommato era un uomo d'onore e quindi lo volle liberare ma, pur avendolo, diciamo, liberato il guru vide che intorno a lui c'erano comunque altri 52 principi indiani che erano stati incarcerati allo stesso Mughal e disse che non sarebbe non sarebbe voluto uscire di fatto da questa prigione se non avesse liberato anche gli altri 52 principi. L'imperatore, diciamo guarda in maniera un po' stupita diciamo così però, diciamo, ha consentì ecco, non voglio dilungarmi troppo ha consentì e quindi fecessi che tutti questi 52 fossero liberati a patto che a patto che è questo molto importante tutti questi 52 dovevano mantenere il mantello del guru che naturalmente non era infinito non è che vada a contenere uno stadio con 52 persone magari il stadio è un po' piccolo non un teatro un piccolo teatro un po' esagerato effettivamente come grandezza solo che naturalmente il guru utilizzò uno stratagemma che per essere chiari utilizzarono anche i cartaginesi e tanti altri popoli ovvero prese il mantello lo fece striscia per striscia in maniera tale che tutti e 52 i principi potessero andarsene via tranquillamente senza problemi detto questo questi erano diciamo i dettagli un po' più storici mitici andiamo a vedere come si celebra perché il Diwali non è una festa che dura un giorno non è come il Capodanno Nostro che si sparano i botti si sta insieme e poi basta no Diwali è una festa molto più complicata perché già cioè perché già di per sé ha cinque giorni a differenza di quelli del Capodanno Nostro che appunto dura uno ha cinque diversi giorni nei quali si fanno cinque diverse cose per carità non è che in un giorno fai solo una cosa eccetera però diciamo ogni giorno è caratterizzato da qualcosa di particolare il primo giorno e con dei nomi particolari questa è la roba proprio bestiale vabbè il primo giorno si chiama Vanteras che vuol dire benessere tredicesimo benessere e che è legato al fatto che è il tredicesimo giorno del mese di Kartik mese nel quale per essere chiari cade il Diwali questo mese questa giornata è dedicata soprattutto alla decorazione delle case all'accensione di queste lampade che si chiamano DIA che sono le lampade caratteristiche di fatto del del Diwali dalla quale poi prendono anche il nome e è una sorta di preparazione nel senso che per carità si fanno anche delle cose lì quindi ad esempio si mangia insieme si fanno questi rangoli che sono delle decorazioni fatte però non con dei colori proprio ma con per fare un esempio il riso cose di questo genere e si iniziano a fare le prime preghiere soprattutto a Lakshmi e a Ganesh offrendo giocattoli dolci e cose di questo genere diciamo che il primo giorno è soprattutto un giorno di raccoglimento quasi quindi dove si celebra già si accendono già le luci ma è soprattutto una sorta di preparazione quasi il giorno più importante lo vedremo poi è il terzo il giorno dopo che si chiama Naraka Chaturdashi deriva da Naraka che vuol dire inferno e Chaturdashi che è il quattordicesimo questo è un giorno molto importante proprio perché si pensa che questo sia il giorno per purificare l'anima lo spirito e la mente proprio in vista dell'imminente di uguali che in realtà sarà il terzo giorno è un giorno comunque molto importante dove molti molti indiani si raccolgono in preghiera si raccolgono addirittura come ritiro seppur non è presente in questa festa nessun tipo di digiuno ma anzi bisogna sempre mangiare fatto sta è un momento sostanzialmente di preparazione tutti quanti si preparano al Lakshmi Pujan 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 che sarà la festa veramente importante e che è il tredicesimo giorno come vi dicevamo Lakshmi Pujan vuol dire Pujan di Lakshmi Pujan onestamente non ho capito cosa sia ho capito che è un qualche tipo di pratica religiosa ma non ho capito esattamente in cosa consiste quindi non so se per fare un esempio un'offerta rituale una preghiera particolare una preghiera collettiva uno stato dell'anima che si raggiunge questo non ho capito fatto sta che i Pujan in questo caso sono dedicati soprattutto al Lakshmi anche se va detto che in diverse parti del mondo hindu come ad esempio nel Bangladesh hindu più che al Lakshmi che è la dea della bellezza della fecondità della aspettate un attimo voglio capire per sicurezza della luce della saggezza del destino anche della bellezza però la bellezza me lo ricordo ma era secondario comunque della luce proprio per questo durante questo giorno in particolare è come se si mostrasse ancora di più al resto del mondo che si sta celebrando il Diwali quindi se prima comunque diciamo queste candele queste deia erano accesi in quel giorno lì si mettono anche fuori si passa più tempo diciamo si dedica anche più tempo a tutto ciò e niente la festa proprio cioè l'apice è come fosse il capodanno nostro addirittura si sparano addirittura fuoco e artificio in quella particolare festa proprio perché lì è il centro di questa cosiddetta festa delle luci e il giorno il quarto giorno è un giorno diverso che non c'entra in niente per essere chiari molti lo associano a una sorta di sì alla fine dei monsoni quindi da un punto di vista proprio pratico naturale lì sono definitivamente finiti ormai da qualche giorno ma anche a rapporto fra maschile e femminile e questo è dovuto anche al fatto che no non mi ricordo l'ho detto il nome di questo ah ve lo dico adesso Bali Pratipada è il nome del quarto giorno Bali Pratipada vi dico due volte così ho recuperato tutto a posto fatto sta la leggenda dice che in particolare in questo giorno Parvati e suo marito Shiva stavano giocando a un gioco di dadi e sembra che proprio in questo match tra virgolette Parvati che è una figura femminile al contrario di Shiva che è maschile vinse e questo in un certo senso ha tutto il significato simbolico del femminile quindi della fertilità della fecondità che vince sul maschile e quindi diciamo crea la vita proprio per questo il di uguali è spesso associato a un capodanno più che una festa di luci sciolta seppur non dà inizio all'anno nuovo questo l'ho già detto prima ma lo specifico nuovamente l'ultimo giorno invece si chiama vai due vai due non vorrei aver non vorrei aver pronunciato male comunque vai due ovvero il giorno del fratello ed è una giornata dedicata in particolare al rapporto fra fratello e sorella dove si fanno diverse cose fra cui imboccare per fare un esempio il proprio fratello e la propria sorella e celebra fra virgolette l'unione fra questi due quindi in particolare fra fratello e sorella non so se anche fra fratello e fratello sorella e sorella per essere chiari però sicuramente diciamo è un momento all'interno del calendario indiano dove si celebra particolarmente la figura del proprio consanguineo ecco proprio consanguineo ma non madre e padre proprio fratello sorella eccetera detto questo il diwali è enorme immenso come cose da dire ce ne sarebbero veramente un milione a partire dal calendario che è un calendario strano per essere chiari perché è un calendario che sia solare sia lunare ma poi segue quello solare alla fine quindi cose particolari cioè per essere chiari non come quello ebraico che ha un nome dei mesi no loro il giorno lo dividono in duemila cose diverse cioè molto complicato mi sono reso conto proprio che la cultura indiana strabordante ecco detto ciao io ho finito spero vi sia interessato vi auguro ancora buon anno un felice 2020 vi auguro di passare nella miglior maniera e vi auguro ieri di aver fatto abbastanza feste di esservi divertiti abbastanza e niente noi ci vediamo domani domani ci dovrebbe dovremmo rimanere nel subcontinente indiano con il capodanno bengalese in questo caso quindi non so niente perché non ho ancora cercato ma suppongo che sia legato soprattutto all'islam oltre che alla componente indiana un mix secondo me e quello dopo ancora al capodanno berbero alla fine il capodanno islamico lo tratterò sabato proprio perché salvo il caso del mondo uscita per essere chiari non è una festa cioè è un mero scorrere del tempo niente spero di avervi divertito spero di avervi interessato come ripetuto prima seguireci su facebook cioè come ripetuto negli altri podcast seguireci su facebook instagram youtube spotify chi più ne ha più ne metta e su telegram da gennaio un po' in più inoltrato di questo dovremo anche iniziare con la spedizione dei pacchi e spero che sia momento per farvi appassionare ancora di più a quest'area a questa cultura del mondo niente alla prossima ciao